Bentornati sul mio canale amici o benvenuti se siete nuovi, io sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi mi siedo qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccato. Oggi parliamo di un caso che è veramente assurdo, sembra un telefilm, sembra Lost che è il mio telefilm preferito nel mondo. Parliamo di un aereo che nel 2014 è sparito nel nulla e con sé sono spariti anche i 227 passeggeri che c'erano a bordo e i 12 membri dell'equipaggio. È un caso molto molto famoso ovviamente perché è un evento talmente bizzarro da aver incuriosito tutto il mondo. Quindi probabilmente ne avrete già sentito parlare ma se non dovesse essere così preparatevi perché rimarrete davvero bocca aperta. Voglio anche fare un piccolo disclaimer, ovviamente non sono né un pilota di aerei né un tecnico di nessun genere, non me ne intendo di meccanica, tecnologia, satelliti, robe varie. Quindi ci saranno delle parti in questo video che proverò a spiegarvi al meglio delle mie capacità. Se sbaglio alcuni termini tecnici vi prego abbiate pietà di me ma se avete voglia potete correggermi gentilmente nei commenti chiaramente. Voglio anche avvisarvi che se per caso avete paura degli aerei, avete il terrore di volare, forse questo non è il video per voi soprattutto se magari dovete andare in vacanza. So che molti di voi stanno viaggiando in questo periodo ora che finalmente si può. Quindi insomma questo video se avete il terrore di volare vi metterebbe solo ancora più ansia. Quindi io vi avverto ovviamente gli aerei sono in realtà molto sicuri. Gli incidenti capitano ma per fortuna sono molto rari. Detto questo cominciamo. Oggi parliamo del volo della Malaysia Airlines MH370. E si tratta di un Boeing 777 che se non lo sapete i Boeing 777 sono quegli aerei enormi. Non è l'aereo piccoletto della Ryanair ma sono quegli aerei immensi che viaggiano a lungo raggio. E oltretutto si tratta del bimotore più grande al mondo. Quindi immaginate questo mega aereo che un giorno durante un viaggio di routine, una tratta che percorreva tutti i giorni, ovvero da Kuala Lumpur a Beijing, qua in Cina che sarebbe Pechino, sparisce nel nulla. Come ho detto a bordo c'erano 227 persone, passeggeri e 12 membri dell'equipaggio. Le persone a bordo erano di diverse nazionalità, la maggior parte erano cinesi, avevano diverse età. Il passeggero più grande aveva 76 anni e il passeggero più piccolo purtroppo era un bimbo di appena 23 mesi. Il pilota era un uomo di nome Zahari Ahmad Shah che veniva dalla Malesia e aveva 53 anni. E il copilota era un uomo di nome Farik Abdul Hamid di 27 anni. Il pilota, il comandante Shah, lavorava per questa compagnia aerea da tantissimi anni. Pilotava i loro aerei dal 1981 e aveva più di 18.000 ore di volo alle spalle, che sono tantissime ore. Era infatti uno dei piloti di questa compagnia con più esperienza. Volare era sempre stata la sua passione. Il copilota Hamid, invece, aveva meno esperienza, era stato assunto da questa compagnia nel 2007 e aveva circa 2.700 ore di volo alle spalle. E quel volo, infatti, il volo 370, sarebbe stato il suo ultimo volo di addestramento. Voglio aggiungere un dettaglio che non è per forza collegato al caso, cioè, non per forza c'entra con quello che poi andrà a succedere nel video, però è un dettaglio che ho letto, quindi ho pensato di, insomma, aggiungerlo. Hamid, il copilota, era finito nei guai qualche anno prima per aver portato delle ragazze nella cabina di pilotaggio, in cui, oltretutto, lui e il pilota con cui stava volando in quell'occasione stavano anche fumando, cosa che, chiaramente, non si può assolutamente fare su un aereo. Ora, ripeto, questo dettaglio probabilmente non significa niente, anche se molte persone, invece, hanno un'idea diversa. Comunque, poi, mi direte voi che cosa pensate, come al solito. Quindi, l'8 marzo del 2014, il volo 370 parte da Kuala Lumpur a mezzanotte e 40 e sarebbe dovuto atterrare a Beijing intorno alle 6 e 40 del mattino dopo. L'aereo decolla e inizia a volare e dopo meno di un'ora, intorno all'1 e 20, il comandante effettua una comunicazione radio di routine col controllore del traffico aereo, in cui confermava di avere la quantità di carburante necessaria per il viaggio e per qualsiasi eventuale emergenza. Gli aerei hanno sempre una quantità di carburante extra rispetto a quella che serve per il viaggio che devono fare in caso, appunto, di emergenze. E l'ultima comunicazione verbale che è stata fatta dal comandante Shah è stata Buonanotte, Malaysian 370. E due minuti dopo, proprio al confine tra Malesia e Vietnam, viene interrotta ogni comunicazione. L'aereo, letteralmente, sparisce nel nulla. Ora, la prima volta che ho sentito parlare di questa storia ho subito pensato Oddio, il modo in cui ha detto Buonanotte, Malaysian 370, significa qualcosa? Forse era un modo per dire addio? Forse era un segnale? Invece ci tengo a specificare che non è così. Era davvero una frase di routine, in quanto, essendo al confine tra la Malesia e il Vietnam, il comandante stava salutando e dando la buonanotte al controllore del traffico aereo della Malesia per poi passare a quello del Vietnam. Quindi si stava congedando, semplicemente. Non era nulla di strano. Dunque, due minuti dopo questa buonanotte, l'aereo sparisce dai radar. Il segnale radar degli aerei è emanato da due transponder che ci sono a bordo. Quindi la sparizione dell'aereo dal radar potrebbe significare che questi due transponder o hanno smesso di funzionare, tutti e due, nello stesso preciso momento, oppure vuol dire che qualcuno manualmente li ha disattivati. In ogni caso, da quel momento, ogni tentativo di comunicare con l'aereo è stato vano. L'aereo sembrava sparito dalla faccia della Terra. Alle 7.24 del mattino, ovvero un'ora dopo l'orario previsto del volo 370 a Pechino, viene fatto un comunicato stampa in cui si dichiarava ufficialmente che l'aereo era sparito. E subito dopo questo comunicato stampa inizia la più grande e dispendiosa ricerca nella storia dell'aviazione. Inizialmente le ricerche si concentrano nel luogo in cui l'aereo era scomparso dai radar, ovvero tra il mare della Cina Meridionale e il Golfo della Thailandia. Ma dopo un po', l'esercito della Malesia ha rivelato delle informazioni in più. Perché, a quanto pare, i radar militari non si limitano a rilevare solo i segnali emanati da quei due transponder che ci sono a bordo degli aerei, che vi ho detto prima, che appunto erano probabilmente stati disattivati. I radar militari sono molto più potenti dei radar delle torri di controllo. Di conseguenza, i radar militari della Malesia sono riusciti a tracciare i movimenti del volo 370 anche dopo essere sparito nel nulla, anche dopo essere sparito dai radar delle torri di controllo. Si scopre quindi che l'aereo, subito dopo essere sparito dai radar, aveva effettuato letteralmente un'inversione a U e aveva iniziato a dirigersi nella parte completamente opposta a quella dove stava andando. Si dirige in direzione sud-ovest e vola sopra la penisola malese, poi gira a destra, vicino all'isola di Penang, e continua a volare in quella direzione, finché anche il radar militare della Malesia non lo rileva più e perde il segnale. Nel frattempo, gli investigatori controllano anche i segnali satellitari inviati dall'aereo. Praticamente tutti gli aerei moderni sono dotati di terminali di comunicazione satellitare che inviano e ricevono segnali satellitari dalla terraferma. E attraverso queste trasmissioni registrate scoprono che prima della sparizione dell'aereo sul mar della Cina meridionale, quindi prima della sparizione dai radar, tutto sull'aereo funzionava normalmente. Era tutto a posto. Ma dopo aver effettuato quella strana inversione AU, il segnale col satellite era stato interrotto e il terminale satellitare dell'aereo non funzionava più, non rispondeva più. Invece, tre minuti dopo la sparizione dal radar militare, quindi tre minuti dopo la sparizione completa dell'aereo, quando nessuno poteva più vedere dove fosse questo aereo, scoprono che il terminale satellitare aveva ripreso a funzionare come se fosse stato riavviato e aveva infatti richiesto l'accesso al network. Ed era stata ristabilita questa connessione per sei ore dopo. Ora, non so se sono riuscita a spiegarmi bene, ma questa cosa che vi ho spiegato significava che per sei ore dopo la sparizione da ogni radar, l'aereo era ancora in volo e dopo queste sei ore di volo si presume che l'aereo abbia finito il carburante e sia precipitato. Durante quelle ultime ore sono stati effettuati diversi tentativi di comunicazione con la cabina di pilotaggio usando il telefono satellitare, ma a queste telefonate nessuno ha mai risposto. Comunque, attraverso i vari segnali satellitari che l'aereo aveva inviato in base alla quantità di carburante che l'aereo aveva a disposizione, alla velocità a cui andava, cose così, gli esperti hanno identificato più o meno l'area in cui l'aereo doveva essere caduto. Quest'area si trovava in mezzo all'oceano indiano e dato che le ricerche erano finite nella giurisdizione australiana, il governo australiano ha deciso di prendersi carico di tutta l'operazione. Le ricerche procedono, ma questa parte di oceano indiano è davvero in mezzo al nulla ed è così lontana che ci sono voluti sei giorni solo per arrivare lì. Comunque, nelle settimane successive hanno usato tantissimi mezzi per trovare questo aereo. Hanno usato 19 navi e 345 aerei militari fino a coprire 4 milioni e 500 mila chilometri quadrati di oceano. Hanno anche pensato che un aereo che si schianta nell'oceano causerebbe probabilmente un forte rumore. Era possibile quindi che questo rumore fosse stato registrato dai vari idrofoni che sono dei microfoni sott'acqua che servono per ascoltare e registrare i suoni provenienti dall'acustica marina. E qualcuno di questi idrofoni aveva effettivamente registrato qualcosa. Ma successivamente si è arrivati alla conclusione che quei suoni registrati non c'entravano nulla con la caduta dell'aereo. Poiché la provenienza di questi suoni e l'intensità non erano compatibili. Ma nonostante tutte queste ricerche dell'aereo 370 non c'era traccia. Ma un anno e quattro mesi dopo questo incidente viene fatta una scoperta dall'altra parte dell'oceano indiano. Il 25 luglio del 2015 un gruppo di persone stava ripulendo una spiaggia di una piccola isola vicino al Madagascar quando all'improvviso si sono imbattuti in un grosso oggetto metallico. Gli esperti di aviazione hanno subito riconosciuto quell'oggetto come una parte dell'ala di un aereo. All'interno di questo oggetto c'erano anche dei numeri seriali e dopo averli controllati hanno confermato che quell'oggetto era proprio un pezzo dell'ala del volo 370. Nonostante quest'isola in cui è stato rinvenuto questo oggetto si trovasse a più di 4000 km dall'area delle ricerche dall'area in cui presumibilmente l'aereo era caduto. Comunque questa era una conferma del fatto che l'aereo fosse effettivamente caduto nell'oceano indiano. E dal giorno del ritrovamento di questo pezzo di ala sono stati ritrovati altri 31 piccoli oggetti appartenenti ad un aereo. Tutti nelle spiagge circostanti sono stati trovati altri pezzi di ali pezzi di motore un pezzo di una porta un pezzo di un sedile sapete quella cosa in cui è incastrato lo schermo nel sedile. Tre di questi 31 oggetti sono stati identificati come appartenenti al volo 370 al 100% mentre invece di tutti gli altri oggetti non hanno la certezza. Nel gennaio del 2017 le ricerche vengono sospese ma nel 2018 una compagnia americana privata decide di portarle avanti da sé ma dopo un altro anno di ricerche anche questa compagnia decide di arrendersi e ne esce a mani vuote. Un'altra cosa molto misteriosa è la scatola nera. La scatola nera è un apparato progettato per registrare i dati e mantenerli nonostante gli incidenti esplosioni insomma sono letteralmente indistruttibili anche sott'acqua per circa 30 giorni così da facilitare le indagini appunto in caso di incidente. Queste scatole nere emanano un segnale tipo un segnale al secondo appunto fino a circa 30 giorni dall'incidente in modo che si possano trovare più facilmente in modo che si possano rilevare ovunque esse siano ma la scatola nera del volo 370 non è mai stata trovata non sono mai stati rilevati questi segnali e questa è una cosa davvero assurda non è mai successa prima una cosa del genere. Ora come tutte le storie estremamente misteriose come questa ci sono davvero tantissime teorie quindi vediamole un po' insieme dunque la prima teoria riguarda due individui che il giorno della partenza avevano destato del sospetto al momento dell'imbarco poiché erano in possesso di due passaporti falsi chiaramente questo dettaglio apre la possibilità di un dirottamento ma le autorità hanno poi presto stabilito che questi due ragazzi non erano terroristi viaggiavano con un passaporto falso semplicemente perché stavano cercando asilo politico e non avevano nessuna cattiva intenzione sospetti simili giravano anche attorno ad un altro passeggero del volo che a quanto pare non risultava nella lista ufficiale di passeggeri quindi era un passeggero extra e pare che fosse anche un ingegnere di volo e che quindi avrebbe avuto le capacità necessarie per prendere controllo di un Boeing 777 un'altra teoria è che in volo sia scoppiato un incendio e questo si pensa perché a quanto pare il volo 370 stava trasportando delle batterie agli ioni di litio e c'era stato un altro incidente di un aereo di UPS nel settembre del 2010 che aveva preso fuoco proprio a causa di un pallet di batterie agli ioni di litio che stava trasportando oppure un'altra causa di un incendio a bordo potrebbe essere un malfunzionamento elettrico come il volo di Swiss Air nel 1998 in quel caso l'incendio aveva danneggiato diverse apparecchiature di bordo compresi i trasmettitori satellitari e questo spiegherebbe il perché l'aereo sia sparito dai radar se questo fosse il caso si teorizza che i due piloti dell'aereo 370 forse quando si sono accorti dell'incendio a bordo hanno fatto quell'inversione a U nel tentativo di tornare in Malesia e tentare un atterraggio di emergenza nell'aeroporto più vicino ma in realtà non è mai stato fatto un tentativo di atterraggio e ricordate l'aereo ha continuato a volare per ben sei ore quindi questa teoria non ha molto senso secondo me un'altra teoria è che la cabina di pilotaggio barra l'intero aereo si sia depressurizzato e che quindi tutti compresi i piloti abbiano perso conoscenza come è successo su un volo della Helios Airways nel 2005 in cui i piloti hanno appunto perso conoscenza ma l'aereo aveva continuato a volare e ad andare avanti col pilota automatico per due ore fino a che appunto non aveva finito il carburante ed era precipitato ma nel caso di depressurizzazione il personale di bordo chiaramente è addestrato a reagire con le famose maschere d'ossigeno che vengono giù e che bisogna indossare come ti spiegano prima di ogni partenza il comandante del volo 370 aveva tantissimi anni di esperienza quindi è improbabile che sia andata così anche se ovviamente non possiamo saperlo e se fosse davvero andata così non si spiegano comunque i cambi di direzione che l'aereo ha effettuato perché oltre all'inversione a U l'aereo ha poi girato a destra e poi girato un'altra volta insomma ha fatto delle manovre ed è stato stabilito da diversi esperti nel campo che quelle manovre non sono state effettuate dal pilota automatico pensano che siano state effettuate da un umano ma la teoria più spaventosa mi avviso è quella che coinvolge il comandante dell'aereo perché alla fine del giugno del 2014 alcuni giornali hanno rivelato che era in corso un'investigazione speciale che vedeva proprio il comandante Shah come sospettato principale le autorità a quanto pare avevano perquisito casa sua e avevano trovato un simulatore di volo che in sé non è una cosa strana come abbiamo detto era la sua più grande passione volare quindi non è strano che avesse un simulatore di volo a casa ma all'interno di questo simulatore avevano trovato un itinerario molto sospetto che terminava proprio nell'oceano indiano ma questi elementi non erano stati rilasciati al pubblico per molti anni sono stati rilasciati al pubblico nel 2016 e soltanto perché c'è stata una fuga di notizie e l'itinerario trovato nel simulatore di volo del comandante era anche spaventosamente simile al percorso che aveva effettivamente fatto l'aereo il giorno dell'incidente e per molti chiaramente quella era una prova del fatto che quell'incidente era stato premeditato questa chiaramente rimane solo una teoria ma se fosse stato così se tutto questo fosse stato fatto volontariamente dal comandante Shah quale sarebbe stato il motivo? Shah era sposato con tre figli era un pilota molto esperto come abbiamo già visto non aveva mai avuto problemi né dato problemi alla compagnia pare non avesse nessun problema finanziario nessun disturbo nessuna instabilità mentale non soffriva di ansia non soffriva di depressione era nato e cresciuto sull'isola di Penang in Malesia e alcuni hanno anche speculato sul fatto che l'aereo fosse passato proprio di lì proprio dall'isola di Penang e che questa cosa non fosse un caso molti pensano che quello fosse il modo del comandante Shah di dire addio alla sua città natale ora chiaramente molte persone non vogliono credere a questa teoria che il comandante abbia fatto cadere apposta un aereo con tutte quelle persone a bordo è una cosa terribile un atto estremamente egoista ma ci sono stati dei casi in cui questa cosa è successa davvero come per esempio il volo German Wings del 2015 ma questi per fortuna sono casi estremamente rari e nel caso del comandante Shah non c'erano davvero campanelli d'allarme alcune fonti dicono che il suo matrimonio non stesse andando proprio bene ma anche lì non era nulla di grave nulla che possa giustificare un atto del genere non che ci sia qualcosa che possa giustificarlo però nel senso il comandante Shah era una persona molto equilibrata psicologicamente i matrimoni passano alti e bassi in senso è una cosa normale e la mia opinione è che una persona equilibrata che sta passando un brutto momento nel suo matrimonio non prende un aereo e si va a schiantare con 250 persone a bordo ecco però di nuovo non possiamo saperlo queste sono solo teorie ma il fatto che non abbiano mai trovato la carcassa dell'aereo né mai neanche uno dei 239 corpi rende impossibile il poter trarre qualsiasi conclusione e rende anche questo caso incredibilmente misterioso cioè come è possibile che di questo coso gigantesco immenso e di 239 persone che c'erano a bordo si siano trovati solo 31 piccolissimi oggetti sparsi qua e là di cui oltretutto solo 3 o 4 sono stati identificati come effettivamente appartenenti a questo specifico volo non è mai stato trovato neanche un corpo neanche un indumento appartenente ad una persona un bagaglio non lo so qualcosa che cosa è successo davvero a questo aereo purtroppo ad oggi ancora non si sa nulla e non vorrei dire una cavolata ma ho letto che questa è davvero la prima volta la prima e unica volta che succede una cosa del genere perché ogni volta che c'è stato un incidente aereo nella storia la carcassa è sempre stata ritrovata questa è la prima ed unica volta in cui non si sa cosa sia successo e non è stato ritrovato nulla e nonostante numerosissimi esperti e studiosi in tutto il mondo abbiano cercato di dare un senso alla cosa nessuno c'è ancora mai riuscito questi amici miei sono tutte le informazioni che ho su questo caso come al solito fatemi sapere se conoscevate già questa storia quali sono le vostre teorie secondo voi che cosa è successo davvero a quest'aereo io non riesco ad avere un'opinione solo il pensiero di una qualsiasi di queste teorie mi terrorizza anche perché diciamo che non amo volare una volta mi piaceva invece ultimamente mi dà molta ansia quindi non è una cosa che amo fare chiaramente lo ripeto per tranquillizzarvi e tranquillizzarmi viaggiare sugli aerei è davvero una cosa molto sicura non vi preoccupate gli incidenti capitano ma sono veramente veramente rari quindi spero di non avervi spaventato troppo e detto questo vi ringrazio come al solito di aver passato il vostro tempo con me e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao